Un anno fa in una clinica della Costa Azzurra, ultimo suo rifugio per cercare di curarsi meglio delle tante malattie, decedeva il maestro Alberto Burri. Sono passati già 12 mesi, ma 12 mesi dove sembra che il maestro Tifernate sia sempre stato vivo e nell'immaginario collettivo abbia ottenuto più risultati e più successi. Un mostro di bravura per ciò che riguarda l'arte moderna, invidiatoci da tutto il mondo e che però ancora deve essere scoperto e riscoperto dalla collettività alto-tiberina. Ne parliamo con il segretario generale della Fondazione Palazzo Albizzini, collezione Burri, professor Nemo Sartianesi. 12 mesi passati che sono sembrati un soffio e mi sembra che il messaggio del maestro Burri sia sempre più attuale. Certo, ma il messaggio di Burri è attuale dal 1948, da quando si è manifestato per la prima volta, col primo quadro informale. Il maestro è rimasto poi un crescendo anche perché il maestro non ha mai avuto momenti di calo, diciamo così. È stato sempre molto attivo e sempre in una progressione continua, in una ricerca della sintesi più assoluta, come era figurato nelle opere dei ultimi anni, del 92, 91-92, che sono presenti alla sezione lì degli ex seccatori del tabacco. Un messaggio universale o è un messaggio per specialisti quello del maestro Burri? Tutti i messaggi in un primo momento, quando escono, sono per specialisti. Poi piano piano, piano piano, e cominciano a entrare anche nella grande massa di fruitori, proprio perché essendo un messaggio valido è sempre universale. Non è mai una cosa che abbia una valenza regionale o nazionale, insomma, no? È un messaggio come tutti i messaggi veri, di arte vera, che non hanno mai limiti di barriere. Tanto onore, ma tanti oneri per la fondazione di poter portare sempre alto il nome di Burri. C'è volontà di aiutare, c'è corrispondenza delle istituzioni o del mondo culturale a che la fondazione Burri al Bissini sia quella voluta dal maestro? Ma è stato un discorso un po' difficile oggi, perché ci sono tante preoccupazioni d'altro genere che purtroppo passano avanti a quelle che sono la valorizzazione dei beni culturali. Vediamo che il nostro ministero è il più povero di tutti. Nei toto ministri non compare mai neanche, insomma, quindi il conto in cui si tiene questo ministero è minimo. Invece potrebbe essere la vera ricchezza per l'Italia? Dovrebbe essere la vera ricchezza, ma anche se fanno ragionamenti diversi, non so, io non me ne intendo, insomma, di queste cose qui. Non lo preoccupano come cittadini? Sta di fatto che è preoccupante, anche perché noi tiriamo sulla fatica col fiato, visto che ci sono alcune entità museali, come il Museo del Duomo, il capitolo che è importantissimo, oppure sta dei giorni chiuso perché non ci sono i mezzi per poter mantenere operatori museali. Oggi i musei, come vedi anche qui, sono dotati di una strumentazione molto sofisticata, per cui ci vuole anche personale molto istruito, molto preparato, insomma, come ce l'abbiamo per fortuna a Castello. Però non ci sono i mezzi economici per pagarlo. Quindi un Burri sempre più patrimonio di tutti, però tante preoccupazioni affinché questo patrimonio sia godibile e sia goduto. E di fatto il nostro sforzo è stato quello di farlo sempre, di tenerlo sempre aperto, sempre visibile, perché il compito primario di una mostra è quello che naturalmente sia possibile essere veduta, essere valutata, altrimenti non ha nessun valore, viene morto. Giuseppe Volpi, beppino per gli amici tifernati e imparteva in modo per il maestro Alberto Burri, un'amicizia profonda di oltre 60 anni. Un anno fa è morto il suo amico Alberto Burri, ma che era Alberto per i castellani? Che cosa rappresentava Castello per il maestro Burri? Tutto, tutto rappresentava Castello per Burri. Lui era, quando era là in America, di lui c'è di Castello, Italia. No, era molto affezionato al paese, molto. Ha voluto sempre bene Castello. Burri con beppino Volpi andava nel suo rifugio di Morra, nei suoi luoghi particolari, eravati in pochi a poterlo conoscere profondamente. Che cosa era Burri? L'amicizia di Burri, tutti dicono la caccia. La caccia è stato il mezzo per conoscerci. Però mi sembra che il maestro Burri l'ha sempre riconosciuto, quello che valeva e quello che era Beppino Volpi. A me non mi dice tu sei un amico o io siamo amici, ma so che parlando con le persone vicine, l'Adelina soprattutto, che lei me l'ha detto, dice quello che ha fatto Beppe per me. E non ha fatto niente, eravamo amici e basta. Però l'amicizia si vede quando c'è il bisogno. E lui aveva bisogno dell'amico in quel periodo, perché lui è stato sulle case nuve i due anni, che nessuno veniva a trovarlo. La moglie ce ne stava in America. L'amicizia è stata sortita dopo, no? Senta Beppino, ma lei ci diceva all'inizio dell'intervista che il maestro Burri aveva un grande amore per Città di Castello, ma Città di Castello ha apprezzato il valore e quello che il maestro Burri ha rappresentato nel mondo per Città di Castello? Lo diceva nel primo tempo, no, per carità. Gli amici soprattutto, ma che è un pazzo. Lui lascia la professione, si è messo a dipingere. Anche la mamma, poveraccia, mi disse un giorno, ma guarda, mi dico, ti ha detto signora, lui sa il fatto suo. Stia tranquillo, verrà il giorno che lui saprà quello che fa. Mi dice lei, mi disse la mamma, ma sì, io lo dico perché io conosco bene Alberto. Se Alberto prendere una cosa riesce, se la prende di cuore, insomma. Infatti, quando tornò dall'America, disse, ecco quello che devo fare io sulla vita. Sulla prigionaria, quegli anni che è stato prigioniero là, ma quei pochi soldi che gli davano ai prigionieri, lui ci compreva i colori. Passava il tempo perché lo tenevano male, perché lui non volle collaborare. Dice, era un campo di concentramento per prigionieri non collaboratori. Dice, io devo collaborare contro... e no. Però gli trattavano male, era calato 16 chili, i vigaschetti, in quei anni che è stato là. Lei che l'ha visto lavorare, che l'ha visto nel suo laboratorio, che ha visto mentre lavorava con i famosi catrami, con le... Tutto e... Com'era nel laboratorio il maestro? Il laboratorio per lui tutti i posti erano idonei, perché lui andava al mare, lavorava, andava, so, un periodo in villeggiatura, che lo chiedevano certi amici, per esempio personaggi che volevano avere un contatto con Burri, e lui lavorava al mare, è stato giù, per esempio, a Capri, da quelle parti lì, una villa, da villa adesso di chi era? Una villa di un grande signore. Sì, un grande signore, che adesso non ricordo. E lui lavorava sempre, lui aveva bisogno di lavorare. Dove andava, andava al mare, lavorava, andava in campagna. Lui aveva bisogno di lavorare sempre. Nulla, Dio, si si deliria, dice, nessun giorno senza tracciare una linea. E lui era la vita, per lui era la vita. Non è che lavorava così, aveva bisogno di... E creava sempre, sempre cose nuove. Ecco, questo è il riquadro, è l'immagine di Burri vero, cioè quello degli amici, quello fuori dell'ufficialità, quello che era, perché il maestro Burri era schivo a ogni manifestazione ufficiale. I suoi quadri, le sue mostre le hanno sempre presentate gli altri. Il maestro Burri non c'era mai, mentre invece c'era con gli amici, nei momenti di allegria, nei momenti di dolore, nei momenti in cui tutti avevano bisogno di tutti. E questo è Città di Castello, questi sono i suoi veri amici, questo è stato il maestro Burri per i suoi amici. E' la famosa battaciuta colloca, che era una tradizione contadina, che i nostri, diciamo, anziani, i nostri genitori, hanno fatto con grande sacrificio questa manifestazione, che noi altri revochiamo sulla battitura di Pius. In genere, da dove venivano i 15-20 contadini che si davano appuntamento per la battitura sull'aereo? Si faceva scambio con i vicini, con i poderi vicini, c'erano famiglie numerose una volta, non è come ora che... Diciamo che la battitura era anche una forma di collaborazione fra contadini. Deve trovarsi assieme fra dei vicini, fra dei amici, no? Era praticamente la battitura una festa, oltre al lavoro che si faceva. Era la festa perché, diciamolo francamente, nel giorno della battitura si raccoglievano i frutti di un anno intero. Era per il contadino, era un anno di lavoro che chiudeva tutta la storia dell'anno, praticamente, che faceva il pane per tutto l'anno. Immagino che lei, qualche anno fa, quando ancora esisteva questa tradizione della battitura che viene riproposta oggi, nella maniera più fedele possibile, lei fosse ancora ragazzino. Che cosa ricorda di quei giorni? No, e col mio bavo quando... perché io ho fatto il contadino fino a che io ho 16-17 anni, no? E giro del cambio al mio bavo sulle aie per dargli una mano perché facevano 5, 6, 7 noti per fila, no? E allora toccate la mia famiglia piccina. Che valore poteva avere per un ragazzino di 15-16 anni poter occupare una parte attiva nell'operazione della battitura? Da bambino era una cosa eccezionale perché ci si è radunato ai cugini, parenti, cose... E se dormiva, se cossà, se faccia i giorni... E dopo da grande diventava più impegnativo, però è sempre bello, una cosa bella, bella, bella. Con il signor Bruno Ognoni parliamo di una delle operazioni sicuramente più scomode... che bisognava appunto effettuare durante la battitura sull'aia, ossia praticamente la raccolta della pula. Purtroppo tocca portare la via con le lenzuoli perché è l'unico mezzo per trasportarla perché essendo fino a così solo le lenzuola vanno bene per il trasporto. Un'operazione scomoda perché di polvere purtroppo se ne alzava tanta. I giovani non ci vogliono stare perché c'è troppa polvere, però è l'unica faccenda adatta ai giovani perché è leggera, non è pesante, perché per il trasporto ci basta una persona grande. Quando ero piccolo io era l'operazione dei bambini. Tanta polvere ma in compenso meno fatica. Meno fatica, esatto, esatto. E da bambino immagino che l'abbia fatto tante volte. Da bambino era la tenda mia, sì, sì, sì. Questo copricapo particolare fatto appunto con un fazzoletto annodato nei pizzi, ecco, c'erano i cappelli vecchi e i bambini si coprivano il capo con questi fazzoletti legati a pinzo. Era l'unico copricapo. In genere la battitura sull'Aia quanto tempo durava? Era anche questione di giorni? Eh sì, era questione di giorni. Di notti? Eh sì, più che mai di notti perché si partiva dall'una di notte e arrivava secondo l'entità, 100, 150, 200 sacchi, ora arrivo, e durava anche tutto il giorno e bisognava rifarci anche il giorno successivo, sì. Segno inconfondibile della battitura, il classico pagliaio con il palo, detto propriamente Mitulo. Senta, ma era un'arte quella di saper comporre il pagliaio? A scuola c'è andato nessuno a parare, mi ha parato così. Qualche segreto? Un a quell'altro, insomma. Qualche segreto per poter comporre questo pagliaio, ce lo può dire? Eh, i segreti in cielo, c'era uno che stia di sotto, dicea quando era perché, allora i pagliari erano larghi, una immessa, insomma, uno che dicea quando dove allargà, quando dove artirà, e quell'altro che, e quell'altro di sopra, ma erano pagliari che ci stavano 10, 12, eh. Ecco. A chi spettava il compito di preparare il pagliaio? Il pagliaio, eh. Quindi c'era proprio il ruolo del pagliarolo? Sì, 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 è certo, il pagliarolo era responsabile dei veniti, se veniva bene o aveva i onori, se veniva brutto o aveva le critiche. Ah, che bene, fratelli. Uno dei personaggi classici che animavano la battitura di un tempo era appunto il frate che arrivava ad un certo punto. Qual era lo scopo di questo arrivo del frate? A radunare un po' di grano per il monastero. Facevo tutto il giro, vengo da molto lontano, se mi dà qualche cosa, c'è il fattore, c'è il contadino, Dio gli benedica, buona battitura. Il frate in compenso distribuiva il santino o il ricordino? Il ricordino. Lasciavo tutte queste cosettine. Grazie. In modo che se mi davano qualche cosa. Ecco, noi ringraziamo per questo pensiero il frate. I buoi che trainano la classica treggia. Termine propriamente dialettale, ma tutti in Valtiberina sanno che cos'è la treggia, forse anche i più giovani. Vogliamo allora spiegare qual era la funzione della treggia. La treggia per i nostri più anziani, diciamo, che è stata la prima più anziana treggia che usavano per portare via l'uva, il grano, il tabacco, tutte queste robe qui. Poi dopo ci portavano Gran Turco, sacchi del Gran Turco. Era tratta, trainata dalle vacche, famose vacche. E giustamente noi rievocamo questa treggia che è importante, questa treggia, per i nostri giovani. E aveva una funzione particolare anche laddove i terreni presentavano particolari inclinazioni. Più che mai viene usata sull'alta collina, sulla montagna, diciamo. La treggia era più usata un po' anche al piano, però alla montagna era più usata la treggia che il carro. Abbiamo parlato poco fa della treggia e adesso parliamo dei buoi e di come viene preparato questo gioco che poi trainerà la treggia. Cioè, a parte la fattura del gioco, no? Lasciamo perdere. Vieni, aggiunto qui, questo affare che si chiama la soeggia. Questo qui noi si chiama il chiavone. Giusto, camello? Sotto gola. Questa è una corda che viene aggiunta al piozzo, questo si chiama piozzo, come sottogola a un modo che il gioco, quando è in funzione della bestia, non tracola dal colo, ecco. Che non slitta da... il sottogola è questo che si chiama il cavezzino. Cioè, non starebbe il gioco, fermo nel colo, quando loro devono lavorare, fare qualsiasi lavoro. Naturalmente per voi comporta un certo sforzo trainare questa treggia? Beh, no, come sforzo veda, lei c'è stato una... in più, a parte lo sforzo, lo sforzo non ci sarebbe stato. Siccome hanno montato la treggia, hanno lasciato il piozzo fuori dalla coscia della treggia, che camminando, strisciando sulla strada, forza molto di più perché quello non striscia, capito? Quindi se la coscia venisse fatta, no, in un modo, davanti, come posso dire, a come una barca, veda? A un modo che lì, davanti, non punta in vele, viene strisciata. Eccolo qua finalmente il frutto del raccolto. Penso che le immagini più belle della battitura siano qui. E' la risorsa per vivere e per sopravvivere, sì. Che effetto faceva occupare questa mansione, cioè quella di raccogliere il grano? Eh, faceva la mansione perché servia che alla volta non c'era altro e se vuoi vivere ho detto che purtroppo... In passato lei ha ricoperto questo ruolo, cioè quello di raccogliere il grano? Sì, 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 come no? E credo che l'ho fatto. L'ho fatto perfino all'età di 25-30 anni. Ecco, a questo punto, una volta pieno il sacco, che cosa succedeva? Cosa succedeva? Dove veniva sistemato? Veniva sistemato nel granaio, la parte del padrone e poi del contadino sul granaio. La parte del padrone si è caricato con i camion e lo portò via. Era difficile lavorare sotto l'occhio del fattore, specie per chi raccoglieva il grano? Eh, certo. Per esempio, la funzione della donna in questa particolare circostanza, quando arriva il fattore? Ecco, stiamo seguendo appunto la signora che si avvicina al fattore. Allora, a chi tempi tocca andare? Pure il paio di polastri. L'accoglie la contadina, poi la presenta, ma il contadino e viene fuori... Il fattore, buongiorno, buongiorno. A voi. Allora, e voi incominciate, perché i macchiniti hanno voglia di divia, vogliono di aprire un altro contadino, perciò, e voi incominciate, dopo che gli devo dire. E qui, come al solito, si deve aspettare il fattore quando si incomincia. Ci sono anche le ragazze più giovani che hanno questo particolare compito, un compito propriamente da donna, è il caso di dirlo almeno nella circostanza della battitura, vero? Cioè, è molto divertente. Poi, queste cose non avendole mai veste, perché c'è un'emozione grande. È difficile immedesimarsi in questa parte, per voi che siete giovanissime? No, anzi, è molto divertente. Diverta abbastanza. Ha capito con me? Signor padrone, ma chi è che mangia questi capponi, queste galline, chi uccide il maiale, insomma? Io, qualcosa, in parte ho preso anche, ho portato anche a me. Ora, chi è che ha preso di più non lo so, perché io non lo so, l'ho messo già il fattore a posto.